Una grande manifestazione di protesta da tenersi il prossimo 26 maggio per interessare i massimi soggetti istituzionali e rappresentare loro l'assenza tanto dell'ordinaria amministrazione e quindi il collasso della macchina amministrativa quanto di ogni progettualità politica nell'interesse della città. Il mondo produttivo ufficialmente è rivolta. I rappresentanti di Ance, l'Associazione dei Commercianti Sul Monafa Centro, albergatori, Ascom, confesercenti, commercianti, architetti, geometri, ingegneri, commercialisti, avvocati, periti industriali e geologi fanno fronte comune e sono pronti a mettere in campo azioni di protesta eclatanti. Poi in realtà abbiamo aderito all'appello dell'imprenditore Angelone, ci siamo subito ritrovati anche perché è un nostro iscritto, iscritto anche lui al nostro ordine professionale e abbiamo condiviso appunto la sua scelta di protestare contro il mancato pagamento e quindi lo stato di stallo della ricostruzione qui a Sulmona. Il rappresentante di tutte le categorie intervenute, si legge in una nota congiunta, doveva manifestare il proprio disagio e la volontà di impedire che lo stato di declino a cui la città è ridotta prosegua, hanno deciso di costituire una cabina di regia permanente che lavora in maniera collegiale alla soluzione dei tanti problemi che l'attuale amministrazione comunale non vuole o non è in grado di risolvere e sarò deciso di richiedere un consiglio straordinario aperto anche attraverso la raccolta di firme dei numerosi cittadini che in questi giorni hanno espresso vicinanza e apprezzamento all'iniziativa di protesta. Dei rappresentanti del mondo produttivo arriva anche la solidarietà per i lavoratori delle cooperative che occupano l'aula consigliare di Palazzo San Francesco. Contro la rovescia per la manifestazione di protesta questa volta si fa sul serio. di accorrere numerosi perché questo non è un movimento politico, a noi di politica non ci interessa nulla ma è una battaglia per il lavoro.